Musica Sa delibera che per tocca sorbato rispidale e novor de Castellus a Ligera, Tattari, Sulcisi, Iglesi, Entesi, Chinda, Ponera, Contierraso, Custizio, Regionale Sa corda a Cattaso, Trinta, De Lampadas, A Pustir, De Sadovi, In Villa, De Votto In parte a San Ausar, Fertas e Siasa Campos, A Chida, Colades, A Coalizione, De Centro-Destra Chi presenta a Nesar Batormozione, Supra, Sa Sanidade, Nacchieia, Sos Presidio, Novor Ma eris in aula, a Sutta Lineau, Chi deppetandare a Manutenta Chi in sostraballo de Manutenzioni Ordinarie e Straordinari In sozispidales, Chi Bisunuzai Chi si deppene tutelare, fa che indecrare esa supravinanziamento Scompetenziasi il ruolo orde su Custizio Sa su opposizione esaccusana sa maggioranzia De noermantesu sa linea mandata a Dennantis In sozultimo sermesese E cusidera sa cordu de Villa De Votto Una manera prosipartiri su podere Pedid dunca sa sa maggioranzia De annullare sa delibera definia trampista e populista In sa settia, desu Custizio regionale de Martis Assa schimbe, assa presenzia Desu Presidente Sulinas E des assessori a Sassaneda de Doria Sattabies comente ad andare a finire esa chistione E scominzata oggi esa mobilitazione nazionale Desu SILP, CGL Su sindacao italiano desu straballadorra de Polizia Sesuna dobbiaus indennantir desas prefettura Ardenugora, Ristanis, Castello e Tattari Pro dinunziare esa mancanza Desu traballadorra desa Polizia Esos problema desu comparto securesa Pro san notu dinunzian sor mancaur Nel nuovo scontro attuale Spedini de dare pruscara sa formazione Desu Sagenter novos Chi dian adepes piccare su postu De chieno attestentare andare in pensione In prusa sassunzione Sono pruspacca rispetto a sospensionamentos Sa protesta Chere ti informare su opinione pubblica Che oramai su un istracco Orde promissas Sa sassunzione esistraordinaria Sono un miraggio Una su sindacao A oie manca una belle dechemizza Pessonese E manu manu Chi so spolizzotto Sa andan in pensione In sa polizia dei Stadu Hanno mancare sempre espruso Operadorese E estu no problema comune Assasatera al forzar Desordine puro Sus il PCGL Scritti Cuvinzas pro S'unico e monumento Accessorio disposto Prosudua Mizza E bintitrese Bintibattore Euror brutto Scadamese per omine Sisi pesa Tassosa aumentose Assinflazione Estu na limosina Nassu segretario regionale Alessandro Cosso Sa mobilitazione Non è spesso Sa prima tappa Di un percorso Prolongo De protesta Che a tassichire Si su governano A tamudare passo In sa politica Ardei su comparto Secureza A dispetto Desas polemicas Pro posizione Desa regione A sa vusione Intra Sos aeroporto Sardoso E sa posizione Piccada Desu sindicor De Terranova Salighera In Castello In aeroporto A Navattu Vesta Sassessore regionale Deso strasporto Santonio Moro Sor dirigente De Soga E Ryanair Annadao su benevenio A su viazzatore Numero 22 milioni Scolao In sosprimo Sei canno Di attività Di su collegamento Che in Castello Sa compagnia irlandesa A oie Si podenare Schiamudau Sa vida turistica De Castello Che in 370 Bolos A Sacchida Su pruso Bolos internazionales Azzudare Azzudare Sos comunes A godire Desas opportunità Der desubandu Fosmit Suvundu Prosi sviluppu Desormontesi Italianoso E esplicare Esa delibera De giunta Che in sos criterios E sos parametros Pro partire Sudinare Prosi annualidade Do a mizze Bintidu Orbi Sumprur De 11 milioner De euro A disponimento Pro finanziare Interventor Di amparo Desumonte De custus Attafaverdare In sostresa Dovios Promuovio Desassessore Regionale Desosente Locale Saldosalaris Su primul Annavato Custo Manzano In Ludine Presente Sos amministratore Desu territorio Siamo scontentos De cominciare Da Ludine Custo Viazzo In tre stappas In sosterritorio Ordemonte E siamo prontos A dare Una mano De azuda Sos comunes E sas comunidades Annavato Assessore Salaris Amo fatto Un traballo Umano Che nos ha Permitio De arrivare A un risultato D'importo Che in risultato Nazionale Che si annanghe In acusa Regionale Custo Resultato Assicius Assessore Salaris Estunate L'u Passa Dennantis Che sa Sardinia Vaca Contra Sispopolamento E Assisolamento Desos Territorios Sassessore Saio Ist Intervenio Custo Manzano In sa Ateneo Casteldaio Prova a vedare Deso piano Regionale Desa portualidade Turistica Fatto In collaborazione Che in su Dipartimento De Ingegneria Civile Ambientale Architettura Des Universitade De Casteldu Su piano Isto Un istrumento De programmazione Importante Un progetto De territorio Che de pepunare A fortiare Servizios E infrastruttura Scomente Vattore E strategico De crescita Economica Pensando Esempra Sa tutela Deso patrimonio Ambientale E paesagistico A naus Assessore Zaiu Sa Sardigna Puede diventare Uno punto De riferimento Pro su turismo De spasso In su mediterraneo Difatti Isato Un utanto De posto Or barca Artumeda Rispetto A sus Chilometro De costa Sa però Va a differenziar Mannasi Intresos Territorio Su Kimbanta Prochento Desa Sistruttura Su Ninsu Nord Ovest Stessa Distanza De navigazione Intresos Porto Turistico Su Prudes Alvortas Esprur De Vintimiglia Vidi Su Potenziamento Dello Sporto Schizzai Bisuno E struttura Novas Pro Sperper In Sa Costa Pro Permettere Una Navigazione Pro Fazile De No Punta Satteru De Sardigna Sperm 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 Sperm